Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano 2 km di coda per incidente al km 37 tra Chiesino-Zanese e Pistoia e rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Sempre verso Firenze il traffico si sta intensificando tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla Fipilì in direzione Firenze code a tratti per il traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra Colle di Valdelsa Nord e Monteriggioni in entrambe le direzioni. Rallentamenti tra Impruneta-Grevenchianti e Firenze-Impruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti i nostri spettatori di Valdelsa Nord e Monteriggioni in entrambe le direzione Firenze.